Silvia Tamburi, vincitrice della gara donna e notturna di Sansepolcro, trentesima edizione, torni a vincere la notturna che hai già vinto nel 2014, intanto che emozione provi? Beh, è un'emozione grandissima, anche perché quando l'ho fatta quattro anni fa non mi ero resa conto dell'importanza di questa gara, quindi oggi la vinco con più soddisfazione, perché capisco che è una gara che vincono le top runner, quindi mi dà una grande gratificazione vincere oggi. Un primo giro a grande velocità e poi hai preso in largo, dai! Mamma mia, sì, ho fatto questo primo giro davanti a tutti, che è stata un'esperienza bellissima perché una pristrada non l'avevo mai fatto davanti agli uomini, quindi bellissima esperienza, ma è stato un po' pagato poi successivamente, una scelta non dovuta a me, ma all'altra ragazza che mi è partita un po' forte e io a stare indietro non mi andava. L'importanza della notturna, lo hai detta prima, però anche il fascino di questa gara. Sì, è bellissima, io penso che da quando corro sono venuta sempre, e poi la consiglio a tutti, perché a prescindere dall'importanza che ha, la gente è veramente calda, cioè correre qui c'è sempre dietro la curva qualcuno che ti dice forza.